Piemonte e Liguria insieme per ricordare un artista, Giuseppe Gambaretto, le cui opere sono esposte nel padiglione Gastaldi del santuario di Graglia, in provincia di Biella. L'artista nasce nel 1909 a Monteforte dal Pone e muore dal Bisola nel 2001. Creativo, eclettico, si impegna in varie espressioni, autoritratti, nature morte, pittura, scultura. In ogni opera emerge una forza interiore che coinvolge il pubblico. A sé stesso è il titolo della mostra curata da Claudia Ghiraldello, la quale ha saputo far emergere attraverso una sequenza quasi cinematografica delle opere esposte l'anima di Giuseppe Gambaretto. Un'introspeccante, d'autore. All'inaugurazione presenti i figli Ettore e Maria Rita, la scrittrice Maria Scarfì Cirone, Marco Pennone e Daniele Venturini. La mostra sarà visibile fino al 25 di giugno. Da Biella è tutto.